Come orientarti nel mondo caotico in continua evoluzione del web marketing e dei social media, come definire degli obiettivi audaci e sviluppare un piano realistico per raggiungerli tutti quanti, come automatizzare le tue entrate per rendere più prevedibile tutto quello che fai nella tua attività, insomma come costruire un business sul web in cui credi ma senza sacrificare la tua libertà. Ti invito a salire a bordo di Biz Academy ad accogliere la sfida e a catapultare i tuoi sogni a livello successivo.